Ehi, sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video in compagnia di Gionisi Squalo Roar, più o meno Roar, è proprio il verso dello squalo Certo, è certo Oggi ragazzi Ma che hanno aggiunto st'aggiornamento? Hanno aggiunto il vampa fucile ma non solo, è stato reintrodotto dopo un mese Un mese di attesa, il parkour, la scavalcata, finalmente Ma prima di iniziare questo video, prima del solito, supportate il codice via e via Ricordate che se arriviamo a 400.000 iscritti, quindi iscrivetevi al canale ragazzi Ci sarà una storia a voi dedicata Una storia dove voi la create con i vostri commenti Inserisci il codice Pazzox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove storie Quindi adesso testiamo Simone, c'è il parkour? Si può fare? Si può fare? Vediamo Ehi, mi mancava tantissimo questa cosa, che bello Insieme Simone, olio cuore, vai Ma che bravi che siamo, ma che coordinazione Che coordinazione Inizia, hai rovinato tutto, basta, guidiamo il video Ma dai, è finita un sprint, è finita la stannina No, Giannale, dai Perché adesso anche questo si può fare Ah, questa cosa ragazzi è utilissima Ed era fastidiosissimo fare così ogni volta Ma la mappa era stata progettata per questo tipo di parkour Esatto Ma questo tipo di parkour non c'è stato per un mese E hanno reintrodotto il caro fantomatico vampa fucile Adesso sarà uguale, identico al capitolo 3 Oppure è stato leggermente revorcato, vediamo A parte il mirino Spara due colpi, sparava due colpi, non ne sparava tre? No, ne sparava sempre tre Esatto, ne sparava due adesso Ma quindi perché il parkour è stato rimosso? Essendo così utile Perché quando qualcuno faceva questa mossa a volte Volava dall'altra parte della mappa A me non è mai capitato una cosa del genere Però a molti giocatori accadeva Adesso il perk ancora parkour ha senso C'è gente però C'è gente Simone non ti preoccupare Sei uno scuola Mordigli il culo Eh aspetta Fallo entrare, fallo entrare Oh oh Fallo al bagno È morto Fabio Zal C'è il compagno, c'è il compagno Lo vedo, lo vedo Fallo entrare in casa, fallo entrare in casa A posto L'ho fatto entrare in lobby Simone comunque noi siamo in tre Abbiamo un nuovo amico Si chiama Marty E si sfrega le mani Lui Dove? Se ti piace blu diventa blu Simone Visto? Parkour 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 Questa cosa è comodissima ragazzi Lo adoro Parkour 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 C'è gente pure dietro Oh ci sono scuota Dove è l'altro? Davanti a me Davanti a me due persone Stanno arrivando Sono tre persone Attento Ammazzato uno È morta anche la signorina Capito? Sto arrivando un altro Va bene Si Sto arrivando 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 Signore E basta Posso la skin De me Vaffa fucile Datemi Vaffa fucile Esco dalla finestra È troppo piccola Vaffa fucile time No Sono caduto Ma dai Guarda c'è il buco Non riesco a provare Vaffa fucile Simone Marty si è evoluto Si è diventato Skylander Si Ok Adesso è il vero momento Per provare questo Benetto Vaffa fucile Ragazzi Ma prima Parkour Non ha funzionato Simone No c'è il naro Parkour Questa è una novità Hanno disabilitato Che tu non puoi cadere giù Perché prima tu potevi fare parkour Anche cadendo giù Parkour Non c'è niente Simone Aia Niente Non hanno risolto niente 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 Non farlo mai più Simone Non ho idea di cosa ho visto Oddio Oddio Simone Hai fatto cadere la signora Io stavo per dire un'altra cosa Hai fatto cadere la madonna Adesso Adesso Simone Dammi il martello E riparò io Eh Mannaggia a te Guardate questi Eh Si creator Via via Lascia fare A una Signora Signora Non ti preoccupare Simone Signora Va tutto bene Signora Guardala Si Si No Signora Signora pure lei però Collabori un attimo Attenzione guarda Guardala No No Signora Oh Sì Ma lo sta a tornire Ma è che è Staffato Aspetta Magari è la nostra nuova barca La signora Guarda Vai Signora No E' stata prestata dalla corrente Simone Ho creato la macchina volante Io però eh Guarda Ciao Simone Ma è meglio Oh ma che fa Oh Guarda 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 No Vampafucile La cieca Ma sai che la cieca Forse è molto meglio C'è un altro Mita Guarda la cieca La cieca Comodissimo così Da ravvicinato E' molto forte Ce l'aveva Viola lui Ma perché questo C'ha la cassa di munizioni In testa Che dire pazzolini Spero che questo video Vi sia piaciuto Sinceramente La nuova arma Il nuovo FAMAS Il nuovo Vampafucile Non fa Si tra virgolette Non mi fa impazzire Perché quei due colpi Sinceramente Poi smira un casino Eh A meno nel mio punto di vista Non so voi In questo caso Prefisco La pistola Che comunque Rimane la mia Arma a distanza Per il momento Fateci sapere voi Cosa ne pensate Di questo parkour Che finalmente E' stato reintrodotto E che dire pazzolini Noi come al solito Ci vediamo Con dolcissimo E carnissimo Hehehe Ciao 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 Ehi! Ciao!